In questo video vi parlerò di Aurasma, un'applicazione gratuita per smartphone e tablet che consente di creare e vedere immagini in realtà aumentata. Attraverso la telecamera del proprio dispositivo mobile, infatti, inquadrando immagini, simboli o altro, appaiono contenuti digitali, per esempio link, immagini, video, animazioni, ecc. Queste immagini aumentate ed altri contenuti si chiamano Auras o Aure. Il software installato rielabora il flusso di dati in tempo reale, aggiungendo contenuti multimediali che diventano quindi visibili attraverso il display. Gli elementi per creare e leggere le Auras sono due. L'app, che viene scaricata da Google Play o App Store, che si installa sul proprio dispositivo mobile, e la registrazione a studio Aurasma per creare le Aure dal PC. E' inoltre possibile fare tutto con il proprio telefonino, però in questo video vi parlerò esattamente di questa procedura, cioè della creazione attraverso il personal computer e poi della lettura attraverso il dispositivo mobile. La prima cosa da fare è installare l'applicazione sul proprio telefono o tablet, per cui vado su Google Play e cerco Aurasma. Va installata, come vi dicevo prima, è gratuita. In questo caso io ce l'ho già installata e con questa scritta vi viene detto se quest'app è compatibile con il vostro dispositivo o no. La seconda cosa da fare è registrarsi a studio.aurasma.com Vado quindi in questa sezione, in questa pagina. Io ovviamente sono già registrata, per cui entro direttamente con il mio login, altrimenti potete registrarvi. Qui ho, tra le altre cose, le mie Aure, cioè tutte le mie creazioni di questi ultimi giorni. Adesso vi faccio vedere qualche esempio, così per farvi capire in cosa consiste la realtà aumentata. Ecco, questa è la registrazione di ciò che accade con il proprio dispositivo mobile. Io ho già installato l'applicazione, come dicevo prima, la lancio. Inquadro un'immagine che ho nel mio PC, che ho arricchito da un video, ed ecco quello che succede. Vedete, dall'immagine nasce poi il video. Adesso vi faccio vedere un altro esempio, è un'immagine arricchita da due video successivi. Lancio sempre l'applicazione nel mio telefono, inquadro l'immagine che ho arricchito, è un'immagine fissa da cui nasce il primo video, e poi, dopo qualche secondo, l'altro. Ecco, siamo rientrati nella nostra pagina di Aurasma Studio, e clicco su Crea nuova aura. Carico la trigger, cioè l'immagine di base. che può essere caricata da Dropbox oppure dal proprio PC. Prendo questa immagine, apro, salvo, l'immagine in qualche secondo viene caricata. Ora, tenete presente che le immagini di base, le immagini trigger, devono avere alcune caratteristiche. A volte appare un avviso che vi dice che appunto le immagini non rispondono a queste caratteristiche. devono esserci, per esempio, dei forti contrasti, deve essere un'immagine abbastanza luminosa, devono esserci dei punti molto ben definiti. Io questa immagine l'ho già provata, l'ho già utilizzata, e sono sicura che vada bene. Però potrei anche aiutare in qualche modo il programma utilizzando queste mascherine. Praticamente potrei creare delle zone, anche con un'opacità differente, con diverse forme, per, che so, isolare una zona della mia immagine, e far sì che quindi il programma si possa concentrare più sulle altre. Ripeto, io in questo caso non ho bisogno di utilizzare queste mascherine. Vado su Next e clicco la prima overlay, cioè il primo arricchimento della trigger. Che tipo di arricchimento posso inserire? Posso inserire dei video, possibilmente Informatic riconosce, per esempio, MP4, oppure delle altre immagini. Adesso io vi faccio vedere un esempio semplice con un'immagine sotto forma di overlay. Appare sopra la mia trigger. Di queste dimensioni, questa può essere modificata. Lo posso anche rendere grande tanto quanto è la trigger. In questo caso vado in questa sezione e clicco su Fit to trigger. E vedete, l'immagine diventa così grande. Oppure posso anche, in questo caso, tornare alla forma originaria, come dicevo prima, modificarla a mio piacimento. Questa, possiamo dire, è già un'immagine arricchita, per cui posso andare avanti, salvare il mio lavoro, chiudere, e lo vedo tra le mie auree. Però, in questo caso, è privata, quindi non potrebbe essere vista da nessuno. Allora, riapro questa immagine con l'edit, continuo ad andare avanti con Next, next, sinché non trovo Share. E, come potete vedere, l'immagine è diventata pubblica. Adesso riprendiamo sempre con l'edit per aggiungere qualche altra cosa. Per esempio, altre immagini. Ne aggiungo una seconda, che voglio sia della stessa grandezza della prima, e infatti, eccola qua, e ne aggiungo anche un'altra. Ma anche questa la facciamo della stessa grandezza delle altre. Ecco, quindi ho realizzato questo arricchimento formato da tre immagini. Quindi, continuo ad andare avanti, salvo il mio lavoro, che è già pubblico, per cui, se io chiudo questa pagina, la trovo sempre qui, tra le mie auree. E vediamo che cosa è successo. Apro a schermo intero, una sorta di anteprima, e utilizzo il mio telefonino. Lancio l'applicazione, e inquadro l'immagine che ho creato. Vedete la differenza, sono apparse tutte e tre le nuove immagini che ho sovrapposto. Ora, tornando sempre sulla nostra immagine, voglio ulteriormente modificarla, quindi clicco ancora sull'Edit, perché voglio che le tre immagini che io ho inserito non appaiano contemporaneamente, ma in tre momenti successivi. Vi faccio notare che ogni immagine è caratterizzata da un colore. Questi colori possono anche essere modificati. Ora, io voglio che la seconda immagine appaia dopo la prima, e la terza dopo la seconda, per cui, clicco sulla prima, che è quella arancione, e aggiungo delle azioni. Sono tante le azioni che posso scegliere, posso aggiungere, per esempio, far sì che succeda qualcosa con un doppio tocco sullo schermo, oppure dopo alcuni secondi. E io scelgo proprio questo. Voglio che dopo tre secondi, che cosa succede? Vediamo quale azione aggiungere. Non voglio caricare un indirizzo, non voglio che appaia una pagina, voglio semplicemente che appaia un'immagine, quindi l'overlay, e clicco su questo. Ma quale overlay? Ovviamente glielo devo dire. E la scelgo, questo overlay, sulla base dei colori. Questa è di colore verde, per cui, questo overlay inizierà tre secondi dopo la prima. Clicco su fatto, e poi salvo. Lo stesso discorso lo faccio per la seconda, in relazione alla terza. Anche qui, aggiungo un'azione. Anche qui voglio che dopo alcuni secondi, appaia un'altra overlay, ma quale? Ovviamente è questa, cioè l'ultima che ho caricato, che è di colore azzurro, caratterizzata da questo azzurro. Salvo e chiudo. Non posso però ancora salvare del tutto, perché mi raccomando di questa cosa. Allora, inizialmente, quest'immagine che deve apparire dopo la prima, deve essere nascosta. Quindi, cancello questo, e segno, smarco, inizialmente nascosta. Ma anche la terza, inizialmente, deve risultare nascosta, se voglio che appaia dopo la seconda. Adesso finalmente posso salvare. Vado avanti, chiudo il mio lavoro, e vediamo come si presenta. Lancio sempre l'applicazione dal mio cellulare, inquadro l'immagine che ho nel PC, appare la prima immagine, appare la seconda, e dopo tre secondi la terza. Per creare un'immagine arricchita da un video, il procedimento non è molto diverso. Per esempio, clicco ancora su Nuova Aura, scelgo l'immagine, e vi faccio vedere esattamente quella del Volo dell'Aquila, per cui l'immagine di base era questa, di un castello scozzese. Dopodiché, vado su Next per aggiungere l'overlay, e carico la GIF animata, che è salvata in formato MP4. Lo riconosci immediatamente come video, per cui clicco su Salva, e l'immagine viene caricata. Però il video risulta ben più piccolo, e allora faccio quello che vi ho suggerito prima. Vado in questa sezione, e con il Fit Tool lo faccio diventare grande, quanto l'immagine. A questo punto vado ancora avanti, salvo, chiudo il mio lavoro, e se l'aura è privata, faccio sempre quello che vi ho detto prima, cioè il ritorno sull'Edit per renderla pubblica, e quindi praticamente questo è il video di apertura del mio tutorial. Adesso manca l'ultimo tassello, l'utilizzo del dispositivo mobile. Adesso vi faccio vedere esattamente quello che succede quando voi, dopo aver installato l'applicazione, utilizzate il vostro, in questo caso, cellulare, per inquadrare un'aura. Faccio partire l'applicazione, e la prima cosa che notate è questa schermata, con cui l'applicazione stessa, appunto, cerca un'immagine da inquadrare. Ora faccio una premessa, io non posso vedere le aure che sono state pubblicate, se non iscrivendomi al canale di colui che le ha create. Per cui devo, con questa lente di grandimento, cercare il canale, in questo caso il mio, per vedere le mie aure. E devo cercare quindi esattamente il canale, il nome del canale con cui mi sono registrata. Io mi sono registrata con il nome di Elibu. Quindi cerco questo canale, tra migliaia di canali che esistono, e lo trovo. Ora, fatto questo, quindi trovato il canale, devo smarcare la sezione del following. Solo da questo momento in poi, potrò visualizzare le aure di chi ha creato con Elibu. Dopo aver affettuato questa operazione, clicco in questa sezione, quindi in questa sorta di schermo, perché riavvio la ricerca, quindi riappare quella prima schermata che vi ho fatto vedere prima, poco poco fa, dal telefonino, con cui posso inquadrare le aure. E con questo è tutto. Arrivederci. Alla prossima